La Chiesa di Gesù Cristo Generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal Coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa prima sessione della 179esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dando un caloroso benvenuto ai fedeli e agli amici presenti nel centro delle conferenze e in qualunque parte del mondo. Il Presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni usiliarie. Siamo grati alle numerose emittenti a radio televisive e sistemi via satellite e via cavo che trasmettono questa conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. Il coro del tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Clay Christensen, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione, cantando Gloria al Signor lassù, e ci farà ora ascoltare la preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano John M. Madsen, membro dei settanta. Segdu poi, il pantsercare di parte. In Il coro ha in dipendzo, ci farà le respondo di un calentador. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, Rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, Rejoice. The Lord, the Savior, reigns, The God of truth and love. When He unperched our saints, He took His seat above. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, Rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, Rejoice. His kingdom cannot fail, He rules all earth and hell. The keys of death and hell to Christ, O Lord, our King. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, Rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, Rejoice. Nostro amato Padre nei Cieli, I nostri cuori sono realmente stati innalzati per le meravigliose cose che ci sono al mondo e per questo meraviglioso coro. E ti ringraziamo, caro Padre, per le benedizioni supreme che vengono da te e dal tuo amato figliolo, Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro Re. Ed ora preghiamo insieme perché le tue benedizioni siano sul nostro amato profeta Thomas S. Monson e sui suoi nobili consiglieri, sul quorum dei dodici apostoli e su tutti coloro che ci parleranno. O che ci forniranno la musica per questa meravigliosa conferenza generale della tua Chiesa e il Regno. E umilmente ti preghiamo e ti imploriamo, Padre, perché tu possa darci in gran copia il tuo Spirito affinché possiamo tutti essere edificati e te lo chiediamo nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen. Avremo ora il piacere di ascoltare il nostro amato profeta, il Presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà, Scegli il giusto. Dopo il coro, l'anziano Richard G. Scott, del quorum dei dodici apostoli, ci parlerà. Sarà seguito da sorella Vicky F. Matsumori, seconda consigliera nella Presidenza Generale della Primaria. Dopo il suo intervento, ci parlerà l'anziano L. Whitney Clayton, della Presidenza dei Settanta. Mi cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi nel dare l'avvio a questa 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sono grato di poter vivere in questo tempo, un'epoca di una tecnologia così avanzata che ci permette di parlarvi in tutto il mondo. Mentre le autorità generali e i dirigenti delle organizzazioni auxiliarie sono seduti qui, nel centro delle conferenze a Salt Lake City, la nostra voce vi raggiungerà tramite varie apparecchiature, quali la radio, la televisione, i satelliti e internet. Benché noi vi parleremo in inglese, voi ci ascolterete in 92 lingue diverse. Dallo scorso aprile, abbiamo dedicato il magnifico Tempio di Oakyer Mountain a South Jordan, nello Utah. Inserito tra la dedicazione del Tempio di Draper, nello Utah, avvenuta a marzo, e quella del Tempio di Oakyer Mountain, avvenuta ad agosto, si è tenuto un evento spettacolare, durato due serate, con i giovani di entrambi i distretti dei templi come protagonisti. Lo spettacolo ha rivisitato il ricco retaggio dell'Ujuta, tramite la musica e la danza. In totale, per le due serate, hanno partecipato circa 14.000 giovani. Continuiamo a costruire templi. Vogliamo che il maggior numero possibile di membri abbia la possibilità di andare al Tempio senza dover viaggiare per distanze eccessive. Nel mondo, l'83% dei nostri fedeli vive entro 300 chilometri da un Tempio. Questa percentuale continuerà a crescere, dato che costruiremo nuovi templi in tutto il mondo. Attualmente, ci sono 130 templi operativi, e altri 16 sono stati annunciati o sono già in costruzione. Questa mattina, ho il piacere di annunciare cinque nuovi templi, per cui stiamo acquistando terreni, e che saranno costruiti nei prossimi mesi e anni, nelle seguenti località. Brigham City, nello Utah. Concepcion, in Cile. Fortaleza, in Brasile. Fort Lauderdale, in Florida. E Sapporo, in Giappone. Ogni anno, nei templi, vengono celebrati milioni di ordinanze a favore dei nostri cari deceduti. Continuiamo ad essere fedeli nel celebrare tali ordinanze per coloro che non sono in grado di farlo per se stessi. Mi piacciono le parole del Presidente Joseph F. Smith, a proposito del servizio svolto nel Tempio e del mondo degli spiriti al di là della mortalità. Egli affermò, Grazie ai nostri sforzi per il loro bene, le catene che ora li legano cadranno da loro, e le tenebre che li circondano si dissiperanno, affinché la luce brilli sopra di loro, ed essi odano parlare, nel mondo degli spiriti, dell'opera che è stata svolta dai loro figli qui, e si rallegrino con voi per questo dovere da voi compiuto. Fratelli e sorelle, la Chiesa continua a crescere, come ha fatto fin dalla sua organizzazione oltre 179 anni fa. Ogni anno cambia la vita di un sempre maggior numero di persone, e si espande su tutta la terra, mentre i nostri missionari cercano coloro che vogliono conoscere la verità, che si trova nel Vangelo di Gesù Cristo. Chiediamo a tutti i fedeli della Chiesa di diventare amici dei nuovi convertiti, di aiutarli, abbracciarli, e farli sentire a casa. Vorrei chiedere di continuare ad esercitare la fede e offrire preghiere in favore di quelle zone in cui, in questo momento, la nostra influenza è limitata e dove non ci è permesso di condividere liberamente il Vangelo. Se lo facciamo, accadranno dei miracoli. Ora, fratelli e sorelle, siamo ansiosi di ascoltare i messaggi che ci verranno presentati durante i prossimi due giorni. Coloro che ci parleranno hanno cercato l'aiuto e la guida del cielo durante la preparazione dei loro messaggi. Hanno sentito ciò di cui dovevano parlarci. prego che possiamo ricevere lo Spirito del Signore mentre ascoltiamo e impariamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Choose the right, the choice is placed before. In the right, the Holy Spirit guides. And its light is forever shining o'er you, When in the right your heart confides. Choose the right, choose the right, Let wisdom mark the way before. In its light choose the right, And God will bless you evermore. In the right, the Lord will bless you evermore. Amen. Grazie a tutti. 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 di più anche la nostra fiducia nel seguire la direzione suggerita dallo Spirito Santo. Posso testimoniare che quando guidati dallo Spirito, la nostra esperienza e il nostro successo aumentano. La fiducia nelle impressioni che proviamo può diventare più certa della dipendenza da ciò che vediamo o sentiamo. La spiritualità produce due frutti. Il primo è l'ispirazione, sapere che cosa dobbiamo fare. Il secondo è il potere o la capacità di farlo. Queste due capacità si uniscono. Ecco perché Nefi poteva dire, andrò e farò le cose che il Signore ha comandato. Lui conosceva le leggi spirituali sulle quali si basano l'ispirazione e il potere. Sì, Dio risponde alla preghiera e ci indica la direzione spirituale che noi viviamo con obbedienza ed esercitiamo la fede richiesta in Lui. Desidero ora condividere un episodio che mi ha insegnato un modo per ottenere la guida spirituale. Una domenica partecipai alla riunione del sacerdocio di un ramo di lingua spagnola a Città del Messico. Ricordo chiaramente come un umile dirigente del sacerdocio messicano si sforzava di comunicare le verità del Vangelo usando il testo della lezione. Notai il forte desiderio che aveva di condividere con i membri del suo quorum questi principi che riteneva molto importanti. Riconosceva che avevano un grande valore per i fratelli presenti. I suoi modi evidenziavano l'amore puro del Salvatore e l'amore per le persone a cui stava insegnando. La sua sincerità, purezza di intenti e amore facevano sì che una forza spirituale riempisse alla stanza. Ero profondamente commosso. Poi iniziai a ricevere impressioni personali, come un'estensione dei principi che quell'umile insegnante presentava. Erano personali e si riferivano ai compiti che mi erano stati affidati in quella zona. Erano la risposta ai miei sforzi prolungati e devoti di imparare. Riportai fedelmente per iscritto ogni impressione che ricevetti. In quel processo ricevetti verità preziose di cui avevo un grande bisogno per essere un servitore del Signore più efficace. I dettagli della comunicazione sono sacri e come una benedizione patriarcale erano per il mio beneficio. Mi furono date direzioni specifiche, istruzioni e promesse condizionate che hanno mutato in meglio il corso della mia vita. In seguito, visitai la classe della scuola domenicale del nostro rione, dove la lezione era tenuta da un insegnante molto istruito. Quell'esperienza era in stridente contrasto con quella che avevo avuto alla riunione del sacerdozio. Mi sembrava che quell'insegnante di proposito scegliesse riferimenti poco noti ed esempi insoliti per illustrare i principi della lezione. Ebbi la chiara impressione che stessi usando quell'occasione di insegnare per stupire la classe con il suo ampio bagaglio di conoscenza. In ogni modo, non sembrava certamente che il suo intento fosse quello di comunicare i principi, come aveva fatto quell'umile dirigente del sacerdozio. In quell'ambiente, di nuovo, forti impressioni iniziarono a riversarsi su di me, le scrissi. Il messaggio comprendeva un consiglio specifico su come diventare uno strumento più efficace nelle mani del Signore. Continuai a scrivere il più fedelmente possibile i sentimenti che mi affluivano alla mente e nel cuore. Dopo che ciascuna di quelle possenti impressioni fu messa per iscritto, meditavo sulle sensazioni che avevo ricevuto per se stabilire se le avevo espresse esattamente. Il risultato fu che feci solo piccole modifiche a quanto avevo scritto, quindi ne studia il significato e l'applicazione nella mia vita personale. In seguito pregai, rivedendo con il Signore quello che pensavo mi fosse stato impegnato dallo Spirito. Quando mi pervenne un sentimento di pace, lo ringraziai per la guida che mi aveva dato. Fui quindi spinto a chiedere se c'era ancora qualcosa di più che avrei dovuto ricevere. Ebbi altre impressioni e ripetei il processo di scriverle, meditare e pregare per avere una conferma. Di nuovo, fui spinto a chiedere, c'è qualcos'altro che dovrei sapere? C'era. Quando quell'ultima e più sacra esperienza si concluse, avevo ricevuto alcune delle indicazioni più precise, specifiche e personali che una persona può sperare di ottenere in questa vita. Se non avessi risposto alle prime impressioni, non le avessi valutate scritte, non avrei ricevuto l'ultima guida, la più preziosa. Ciò che vi ho descritto non è un episodio isolato. racchiude molti principi veri che riguardano la comunicazione dal Signore ai Suoi figli qua sulla Terra. Ritengo che non potreste non udire anche la più preziosa e personale guida dello Spirito. Se non siete sensibili, mettete per iscritto e applicate i primi suggerimenti che vi pervengono. Le impressioni dello Spirito possono arrivare in risposta a una preghiera urgente o non richieste quando ce n'è bisogno. Talvolta il Signore ci rivela la verità quando in realtà non la stiamo cercando, come quando siamo in pericolo e non lo sappiamo. Il Signore però non ci obbliga a imparare. Dobbiamo esercitare il libero arbitrio per autorizzare lo Spirito a insegnarci. Se ne faremo un'abitudine, saremo più ricettivi ai sentimenti che pervengono assieme alla guida spirituale. Allora, quando la guida arriverà, talvolta, quando meno ce l'aspettiamo, la riconosceremo con maggiore facilità. L'influenza aspiratrice dello Spirito Santo può essere sopraffatta o mascherata dalle emozioni forti, quali ira, odio, passione, timore o orgoglio. Quando influenze simili sono presenti, è come cercare di preservare il delicato sapore di un chicco d'uva mentre mangiamo un peperoncino. Entrambi i gusti sono presenti, ma uno sovrasta l'altro completamente. Allo stesso modo, le emozioni forti dominano i suggerimenti delicati dello Spirito Santo. Desidero darvi un avvertimento. Satana è estremamente bravo a ostacolare la comunicazione spirituale, inducendo le persone, tramite la tentazione, a violare le leggi sulle quali si fonda la comunicazione spirituale. Riesce persino a convincere alcune persone che non sono in grado di ricevere tale guida dal Signore. Per limitare la capacità individuale di essere guidati dallo Spirito, è diventato un maestro nell'uso del potere assuefatore della pornografia. L'assalto della pornografia, in tutte le sue forme perverse, corrosive e distruttive, ha provocato angosce incalcolabili, sofferenza, crepa cuore e ha distrutto matrimoni. È una delle influenze più dannose sulla Terra, che sia attraverso la carta stampata, i film, la televisione, canzoni e scene, volgarità telefoniche o schermate guizzanti. Se lo schermo del computer è personale, la pornografia crea una dipendenza opprimente ed è gravamente dannosa. Questo strumento potente di Lucifero degrada la mente, il cuore e l'anima di chiunque ne faccia uso. Tutti coloro che sono presi in questa rede seducente e provocante, e poi ne rimangono intrappolati, diventano dipendenti da questa influenza immorale e distruttiva. Molti non possono superare questa dipendenza senza un aiuto. Conosciamo bene questo schema tragico. Inizia con la curiosità, che è alimentata dalla stimolazione e che è giustificata dalla falsa premessa che, fin tanto che rimane una questione privata, non fa male a nessun altro. Cullati da questa menzogna, la sperimentazione va più in profondità, con stimolazioni più potenti, sino a quando la rete si chiude, è un'abitudine tremendamente immorale e che da assefazione esercita il suo controllo perverso. Prendere parte alla pornografia in qualsiasi sua forma rivoltante è una manifestazione ed egoismo sfrenato. Come può un uomo, soprattutto un detentore del sacerdozio, non pensare ai danni emotivi e spirituali provocati alle donne, soprattutto alla moglie, da questa attività ripugnante? Bene dichiarò l'ispirato Nefi, e il diavolo altri ne pacificherà, cullandoli in una sicurezza carnale, e così inganna la loro anima e li conduce via con cura giù in inferno. Se siete prigionieri della pornografia, prendetevi l'impegno di uscirne ora. Cercate un posto tranquillo, pregate urgentemente per ottenere aiuto, siate pazienti e obbedienti. Non arrendetevi. Genitori, siate consapevoli che la dipendenza della pornografia nei giovani può iniziare molto presto. Mettete in atto azioni preventive per evitare una simile tragedia. Presidenti di Palo e Vescovi, mettete in guardia contro questo male. Invitate tutti coloro che pensate si trovano in questa trappola a venire da voi per un aiuto. Abbiate pazienza nel perfezionare la vostra capacità di essere guidati dallo Spirito. Con un allenamento attento, grazie all'applicazione di principi corretti e la sensibilità ai sentimenti che giungono, riceverete la guida spirituale. Attesto che il Signore può parlare alla mente e al cuore attraverso lo Spirito Santo. Talvolta le impressioni sono solo sentimenti generici. Talvolta il suggerimento giunge in modo così chiaro e inconfondibile che può essere messo per iscritto, parola per parola, come un dettato spirituale. Avendo la mia testimonianza solenne, che quando pregate con tutto il fervore della vostra anima, con umiltà e gratitudine, potete imparare a essere costantemente guidati dallo Spirito Santo in ogni aspetto della vita. Ho avuto la conferma della verificità di questo principio tramite le prove e le difficoltà della mia vita, testimonio che potete imparare personalmente ed essere padrone dei principi che portano a essere guidati dallo Spirito. In questo modo il Salvatore può guidarvi per risolvere le prove e godere grande pace e felicità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alla fine della giornata, una coppia di missionari si sta avviando verso casa, quando improvvisamente uno di loro si gira verso l'altro e gli dice, sento che dobbiamo fermarci in quest'ultimo posto. Un insegnante familiare si sente ispirata a chiamare una delle famiglie a lui assegnate che ha visitato solo qualche giorno prima. Una giovane donna programma di andare alla festa di un'amica di scuola, ma poi sente di dover rimanere a casa per questa volta. Come facevano i missionari a sapere di dover bussare alla casa di qualcuno che stava pregando per poterli ricevere? O l'insegnante familiare di dover chiamare una famiglia che si trovava in un disperato bisogno? O la giovane donna di dover stare lontana da situazioni in cui i suoi valori potevano essere compromessi? In ognuno di questi casi essi erano guidati dall'influenza dello Spirito Santo. Regolarmente i membri in tutto il mondo vivono ripetutamente esperienze simili e vi sono coloro che desiderano sentire la guida dello Spirito costantemente nella loro vita. Sebbene ognuno di noi possa imparare a riconoscere i suggerimenti dello Spirito, come Elder Scott ci ha insegnato, quel processo di apprendimento può essere facilitato se altri ci aiutano a capire cos'è lo Spirito Santo, se condividono le loro testimonianze personali e favoriscono un ambiente in cui si possa sentire lo Spirito. L'importanza di aiutare gli altri a comprendere è descritta in dottrina alleanze. Ai genitori, in Sion o in qualunque suo palo che sia stato organizzato, viene detto di aiutare i propri figli a comprendere la dottrina, sia che sia in una classe, in un colloquio con i missionari o in una serata familiare. Insegnare la dottrina riguardo allo Spirito Santo può aiutare gli altri a comprendere questo dono importante. Impariamo che mentre lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo affinché possa distinguere il bene dal male, il diritto alla compagnia costante dello Spirito Santo viene quando i membri ricevono quel dono tramite l'imposizione delle mani da parte di coloro che detengono la debita autorità. Possiamo godere di questa continua compagnia se siamo degni. Ci è stato insegnato che lo Spirito del Signore non dimora in tempi impuri e che se la virtù adorna i nostri pensieri senza posa, allora lo Spirito Santo sarà nostro compagno costante. Le scritture e i profeti ci insegnano come ci si sente ad avere questa compagnia costante. Il Signore ci dice, ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore mediante lo Spirito Santo che verrà su di te e che dimorerà nel tuo cuore. Enos dichiarò che mentre io stavo così lottando nello Spirito, ecco, la voce del Signore giunse ancora alla mia mente. Joseph Smith disse, sentite l'intelligenza pura scorrere dentro di voi, essa può darvi idee improvvise. Il Presidente Henry B. Eyring descrisse l'influenza dello Spirito Santo come pace, speranza e gioia. Egli aggiunse, quasi sempre ho anche provato una sensazione di luce. La mia descrizione preferita è quella fatta da un bambino di otto anni che aveva appena ricevuto lo Spirito Santo. Lui disse, era come sentire la luce del sole. Tuttavia, non è sempre facile discernere subito questi momenti di luce del sole. Il libro di Mormon ci parla di alcuni lamaniti fedeli che furono battezzati con il fuoco e con lo Spirito Santo e non lo seppero. Possiamo aiutare gli altri a conoscere meglio i suggerimenti dello Spirito quando condividiamo la nostra testimonianza della sua influenza nella nostra vita. Ricordatevi che alcune esperienze sono troppo sacre per essere raccontate. Tuttavia, condividendo la testimonianza dello Spirito nella nostra vita, coloro che non conoscono bene questi suggerimenti nel momento in cui poi avranno sentimenti simili, saranno in grado di riconoscerli. Sono stata il primo membro della mia famiglia a unirsi alla Chiesa. Quando avevo otto anni mi volevo sentire in qualche modo diverso dopo il mio battesimo. A essere sincera, l'unica cosa che provai quando usci dall'acqua fu, beh, una sensazione di bagnato. Pensavo che sarebbe successo qualcosa di più profondo quando sarei stata confermata. Tuttavia, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, sì, mi sono sentita felice, ma sicuramente niente di diverso da come mi sentivo qualche minuto prima. Soltanto il giorno seguente, alla riunione di digiuno e testimonianza, provai ciò che ora riconosco essere l'influenza dello Spirito Santo. Un fratello si alzò per andare alla sua testimonianza e parlare delle benedizioni che riceveva quale membro della Chiesa. Sentì un'ondata di calore diffondersi in me. Anche se avevo otto anni, riconobbe che questo era qualcosa di diverso. Sentì la pace scendere su di me e debbi la chiara sensazione che il Padre Celeste era soddisfatto di me. Ci sono posti in cui è più facile sentire lo Spirito. Le riunioni di testimonianza e la conferenza generale sono alcuni di questi, sicuramente anche nei Templi. La sfida per ognuno di noi è di favorire un ambiente in cui si possa sentire lo Spirito quotidianamente nella nostra casa e settimanalmente in Chiesa. Un motivo per cui siamo incoraggiati a pregare e a leggere le scritture ogni singolo giorno è che entrambe queste attività invitano lo Spirito nella nostra casa e nella vita dei membri della nostra famiglia. Poiché lo Spirito viene descritto spesso come una voce calma e sommessa, è importante anche avere un momento di quiete nella nostra vita. Il Signore ci ha consigliato state tranquilli e sappiate che io sono Dio. Se creiamo un momento di calma e di quiete ogni giorno in cui non siamo bombardati dalla televisione, dal computer, dai videogiochi o da altri dispositivi elettronici, permettiamo a quella voce calma e sommessa di darci rivelazioni personali e di sussurrare dolci consigli, rassicurare e confortare la nostra anima. Allo stesso modo, possiamo favorire in Chiesa un ambiente che permetta allo Spirito di dare una conferma divina di ciò che viene insegnato. Gli insegnanti e dirigenti fanno molto di più di insegnare le lezioni e dirigere le riunioni. Essi facilitano i suggerimenti dello Spirito a ogni membro. L'anziano Richard G. Scott ha detto, se non fate null'altro nel vostro rapporto con gli studenti che aiutare a riconoscere e seguire suggerimenti dello Spirito, avete fatto loro un dono immenso ed eterno. Un insegnante dei raggi di sole avvolse ogni membro della sua classe in una coperta per insegnare loro che lo Spirito è come sentire il conforto e la sicurezza di quella coperta. Anche una madre che stava visitando la classe ascoltò la lezione. Molti mesi dopo, quella madre ringraziò all'insegnante e disse che era menattiva quando accompagnò sua figlia alla primaria. Molte settimane dopo la lezione, la madre ebbe un aborto spontaneo. Era sopraffatta dal dolore quando improvvisamente sentì un gran calore e una gran pace. Era come se qualcuno l'avesse avvolta con una coperta calda. Riconobbe la rassicurazione dello Spirito e seppe che il Padre Celeste era consapevole di lei e che l'amava. Quando comprendiamo i sussuri dello Spirito, saremo in grado di sentirlo insegnarci le cose pacifiche del Regno e tutte le cose che dobbiamo fare. Riconosceremo le risposte alle nostre preghiere e sapremo come vivere più pienamente il Vangelo ogni giorno. Saremo guidati e protetti e potremo coltivare questi doni nella nostra vita se seguiamo quei suggerimenti spirituali. Ancora più importante, lo sentiremo testimoniarci del Padre e del Figlio. Quando ero una giovane donna partecipando a una conferenza dei giovani, lo Spirito mi rese testimonianza della veridicità del Vangelo restaurato. Per prepararci una riunione di testimonianza, cantammo lo Spirito arde. Nonostante avessi cantato quell'inno molte volte durante le riunioni sacramentali, in quell'occasione, da quasi la prima nota, sentii lo Spirito. Quando cantammo la parte della strofa che dice, s'appresta la gloria degli ultimi dì, seppi che queste non erano soltanto belle parole, ma meravigliose verità. Lo Spirito Santo mi confermò che Dio il Padre vive. Egli ama ognuno di noi. Ci conosce individualmente e personalmente. Egli ascolta le suppliche del nostro cuore e risponde alle preghiere sincere. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Venne sulla terra, nel meridiano dei tempi, per spiare per i nostri peccati e ritornerà. Questi e tutti gli altri aspetti del Vangelo che compongono la mia testimonianza sono sicuri nel mio cuore, grazie all'influenza dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Molti anni fa camminavo all'alba per le strade strette in pietre a Cusco, in Peru, in cima alle Ande. Vidi un uomo appartenente a un gruppo locale di indigeni camminare per una delle strade. Fisicamente non era grande, ma trasportava sulla schiena un immenso carico delle strade. Un immenso carico di legna da ardere in un grosso sacco di tela ruvida. Il sacco sembrava grande quanto lui. Il carico doveva pesare quanto lui. L'aveva fissato con una corda che era annodata sul fondo del sacco e passava intorno alla sua fronte. Teneva stretta la corda su entrambi i lati della testa e aveva uno straccio sulla fronte sotto di essa per far sì che non gli tagliasse la pelle. Si piegava sotto il suo fardello e camminava con passi ben calibrati e faticosi. L'uomo stava trasportando la legna al mercato dove sarebbe stata venduta. Mediamente in una giornata avrebbe fatto solo due o tre viaggi andata e ritorno, attraversando il paesino per consegnare carichi altrettanto difficili e pesanti. La memoria di quell'uomo che avanzava con difficoltà per quella strada è diventata, con il passare degli anni, sempre più importante. Per quanto tempo avrebbe potuto continuare a portare fardelli del genere? La vita impone su ognuno di noi carichi di ogni tipo, alcuni leggeri, ma altri inesorabili e pesanti. Le persone lottano ogni giorno sotto pesi che mettono alla prova la loro anima. Molti di noi lottano contro questi fardelli. Essi possono essere emotivamente o fisicamente pesanti, possono essere preoccupanti, opprimenti e stancanti e possono andare avanti per anni. In generale, i nostri fardelli provengono da tre fonti. Alcuni fardelli sono il risultato naturale delle condizioni nel mondo in cui viviamo. La malattia, l'invalidità fisica, gli uragani e i terremoti ci colpiscono di tanto in tanto, anche se noi non ne abbiamo colpa. Possiamo prepararci per questi rischi e a volte possiamo prevederli, ma nel corso naturale della vita tutti dobbiamo affrontare qualcuna di queste difficoltà. Altri fardelli sono posti sopra di noi a causa della cattiva condotta degli altri. Gli abusi e le dipendenze possono rendere la casa tutt'altro che un paradiso per i familiari innocenti. Il peccato, le tradizioni sbagliate, la repressione e il crimine lasciano sul percorso della vita vittime grandemente provate. Anche azioni sbagliate meno serie, come la critica e la scortesia, possono causare agli altri un profondo dolore. I nostri propri errori e difetti generano molti dei nostri problemi e pongono pesanti fardelli sulle nostre spalle. Il fardello più onoroso che poniamo su noi stessi è quello del peccato. Tutti noi abbiamo provato il rimorso e il dolore che seguono inevitabilmente la nostra mancata obbedienza ai comandamenti. a prescindere dai fardelli che affrontiamo nella vita, come conseguenza di fattori naturali, dal cattivo comportamento degli altri o dai nostri errori e mancanze, siamo tutti figli di un amorevole Padre Celeste che ci ha mandato sulla Terra come parte del suo piano eterno per la nostra crescita e il nostro progresso. Le nostre esperienze personali e uniche ci preparano a ritornare a Lui. Le nostre avversità e afflizioni, per quanto siano difficili da sopportare, non durano che un breve momento. E allora, se le sopporteremo bene, Dio ci esalterà in eccesso. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per sopportare bene i nostri fardelli per tutto il tempo che durerà il nostro breve momento. I fardelli forniscono occasioni per mettere in pratica le virtù che contribuiscono alla perfezione finale. Ci invitano a cedere ai richiami dello Spirito, a spogliarci dell'uomo naturale e a santificarci tramite le spiazioni di Cristo, il Signore, e a diventare come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene convenienti a infliggerci, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. Questi fardelli diventano benedizioni, sebbene spesso tali benedizioni sono ben mascherate e possono richiedere tempo, sforzo e fede per essere accettate e comprese. Quattro esempi ci aiutano a spiegare questo concetto. Primo, ad Adamo fu detto, maledetto sarà il suolo per causa tua, che significava per il suo beneficio, e col sudore del tuo volto mangerai il pane. Il lavoro è un fardello continuo, ma è anche una benedizione continua, in quanto insegna, per causa nostra, lezioni che noi possiamo imparare solo col sudore del nostro volto. Secondo, Alma osservò che la povertà e le afflizioni dei poveri tra gli zoramiti li avevano veramente umiliati ed erano preparati ad ascoltare la parola. Egli aggiunse, poiché siete costretti a essere umili, siete benedetti. Le nostre difficoltà economiche attuali possono aiutare anche noi a prepararci ad ascoltare la parola del Signore. Terzo, a causa della lunghissima durata della loro guerra, molti nefiti e lamaniti si erano inteneriti a motivo delle loro afflizioni, tanto che si umiliarono dinanzi a Dio proprio in profonda umiltà. L'agitazione politica, i disordini sociali e in alcune aree del mondo ladroni di Gadianton moderni possono renderci più umili e motivarci a cercare un riparo celeste dalle tempeste sociali. Quarto, a Joseph Smith venne detto che le terribili cose sofferte per anni a causa dei suoi nemici gli avrebbero dato esperienza e sarebbero state per il suo bene. La sofferenza subite per le cattive azioni di altri è un prezioso insegnamento, anche se doloroso, per migliorare il nostro comportamento. Inoltre, sopportare i nostri fardelli può sviluppare in noi una riserva di empatia per i problemi degli altri. L'apostolo Paolo insegnò che dovremmo portare i pesi gli uni degli altri e così adempiere la legge di Cristo. Di conseguenza, le nostre alleanze battesimali prevedono che siamo disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri, sì, e essere disposti a piangere con quelli che piangono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Osservare più pienamente le nostre alleanze battesimali allevia i nostri propri fardelli come pure quelli di coloro che serviamo. Tutti quelli che offrono questo tipo di assistenza stanno su una terra santa. Spiegando questo, il Salvatore insegnò «Quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O versete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto? O ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il Re, rispondendo, dirà loro «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto, ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». In ogni momento il Salvatore ci offre forza e sostegno e a suo tempo è modo liberazione. Quando Alma e i suoi segraci scapparono dall'esercito di Renoè, edificarono una città chiamata Elam. Cominciarono a coltivare la terra, costruire edifici, si moltiplicarono e prosperarono. Senza ricevere avvertimenti, un esercito dei Lamaniti li portò in schiavitù e nessuno avrebbe potuto liberarli se non il Signore loro Dio. Questa liberazione, però, non è arrivata subito. Questi nemici cominciarono a imporre loro dei lavori e misero su di loro dei sorveglianti. Benché fossero minacciati di morire se avessero pregato, Alma e il suo popolo aprirono a Dio il cuore, ed egli conobbe i pensieri del loro cuore. Grazie alla loro bontà e obbedienza alle alleanze battesimali, piano piano furono liberati. Il Signore disse loro «Ed allevierò i fardelli che sono posti sulle vostre spalle, così che non possiate sentirli più sulla schiena, anche mentre siete in schiavitù. E farò ciò affinché possiate stare come i miei testimoni d'ora innanzi, e affinché possiate sapere con sicurezza che io, il Signore e il Dio, conforto il mio popolo nelle sue afflizioni». Ed ora avvenne che i fardelli che erano stati imposti ad Alma e dai suoi fratelli furono resi leggeri. Sì, il Signore li fortificò, così che potessero portare agevolmente i loro fardelli, ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. E avvenne che così grandi erano la loro fede e la loro pazienza, che la voce del Signore venne a loro di nuovo, dicendo «State di buon animo, poiché domani io vi libererò dalla schiavitù». Con grande misericordia il Figlio di Dio si offre di liberarci dalla schiavitù dei nostri peccati, che è tra i fardelli più pesanti che portiamo. Durante l'espiazione, Egli soffrì secondo la carne, per poter prendere su di sé i peccati del suo popolo, per poter cancellare le loro trasgressioni, secondo il potere della sua liberazione. Cristo ha sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. Quando ci pentiamo e serviamo i comandamenti, giunge il perdono e il sollievo per la nostra coscienza, oppressa tramite l'aiuto che solo il Salvatore può offrire, poiché sicuramente chiunque si pente troverà misericordia. Mi ricordo di quell'uomo in Peru, curvato sotto il peso dell'enorme sacco di legna che stava trasportando sulle spalle. Per me, Lui è l'immagine di ognuno di noi che lotta contro i fardelli della vita. So che se obbediamo ai comandamenti e rispettiamo le alleanze fatte con Dio, Egli ci aiuta con i nostri fardelli, ci dà forza. Quando ci pentiamo, Egli perdona i nostri peccati e ci benedice con pace di coscienza e gioia. Prego che possiamo sottometterci allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il coro e la congregazione canteranno ora «Ti siamo grati, o Signor, per il profeta». Al termine del canto ci parlerà il fratello Russell T. Osgathorpe, Presidente Generale della Scuola Domenicale. Dopodiché ascolteremo l'anziano David A. Bednar del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro quindi canterà «Il mio Padre Celeste mi ama». Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi di Monti. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Stiamo trasmettendo la 179ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Giorni. Un giorno, quando servivo come Presidente di Missione, parlavo al telefono con il nostro figlio maggiore che si stava recando in un ospedale dove lavorava come medico. Arrivato vicino all'ospedale mi disse, è stato bello parlarti papà, ma ora devo uscire dalla macchina e andare a salvare qualche vita. Nostro figlio cura bambini con malattie molto gravi. Se riesce a fare una diagnosi esatta di una malattia e a dare le cure giuste può salvare la vita di un bambino. Ho detto ai nostri missionari che anche il loro lavoro aiuta a salvare la vita, la vita spirituale delle persone a cui insegnano. Il Presidente Joseph F. Smith disse, quando l'uomo riconosce la verità sarà salvato da essa. Egli non verrà salvato semplicemente perché qualcuno gliene parla, ma perché la riconosce e agisce secondo essa. Nostro figlio salva vite umane condividendo la sua conoscenza della medicina. I missionari, gli insegnanti della Chiesa salvano vite condividendo la loro conoscenza del Vangelo. Quando i missionari e gli insegnanti ricercano lo Spirito, insegnano il principio giusto, invitano chi ascolta a vivere quel principio e rendono testimonianza delle benedizioni promesse che di sicuro arriveranno. L'anziano David Hebertner, nel corso di una recente riunione di addestramento, ha parlato di tre semplici elementi che fanno parte di un insegnamento efficace. Dottrina chiave, invito all'azione e benedizioni promesse. La guida a predicare il mio Vangelo aiuta i missionari a insegnare la dottrina chiave. Invita a coloro che ascoltano i loro insegnamenti a entrare in azione e a ricevere le benedizioni promesse. La guida a insegnare, non c'è chiamata più grande, aiuta i genitori e gli insegnanti a fare la stessa cosa. È adatta per l'insegnamento del Vangelo quanto predicare il mio Vangelo lo è per il lavoro missionario. Usciamo questi due manuali per prepararci a insegnare, quindi quando insegniamo richiamiamo lo spirito. Il presidente Monson raccontò la storia di una insegnante della scuola domenicale di quando lui era un ragazzo, Luci Gersh. Una domenica, nel corso di una lezione sul servizio caritatevole, sorella Gersh invitò i suoi studenti a donare il fondo che era stato messo via per la festa della classe alla famiglia di un loro compagno che aveva perduto la mamma. Il presidente Monson disse che nel fare quell'invito all'azione sorella Gersh chiuse il manuale e aprì i nostri occhi, le nostre orecchie e il nostro cuore alla gloria di Dio. Sorella Gersh aveva usato il manuale per preparare la lezione, ma quando sentì l'ispirazione chiuse il manuale ed esortò i suoi studenti a vivere il principio del Vangelo che stava insegnando. Come ha detto il presidente Monson, l'obiettivo del Vangelo non è quello di riversare le nozioni nella mente dei membri della classe. L'obiettivo è di ispirare l'individuo a pensare, sentire e poi fare qualcosa in merito alle verità e ai principi del Vangelo. Quando Moroni apparve al profeta Joseph Smith, non solo gli insegnò le dottrine chiave della restaurazione, ma gli disse anche che Dio aveva un'opera da fargli compiere e gli promise che il suo nome sarebbe stato conosciuto fra tutte le nazioni. Tutti i genitori e gli insegnanti del Vangelo sono messaggeri di Dio. Non tutti insegniamo a futuri profeti, come sorella George e Moroni, ma tutti insegniamo a futuri dirigenti della Chiesa. Perciò insegniamo alla dottrina chiave. Invitiamo chi ci ascolta a compiere il lavoro che Dio ha per loro e quindi promettiamo che le benedizioni arriveranno per certo. Ricordo una volta quando ero un bambino stavo andando spensierato in chiesa per una riunione della primaria. Rimassi sorpreso una volta arrivato di vedere tutti i genitori che erano là per un programma speciale. Poi da un tratto mi resi conto. Avevo una parte in quel programma e avevo dimenticato di imparare a memoria le mie batture. Quando arrivò il turno di dire alla mia parte, mi alzai in piedi davanti alla sedia, ma dalla mia bocca non uscì una parola. Non riuscivo a ricordare niente. Così rimasi là in piedi, poi alla fine mi sedetti a fissare il pavimento. Dopo quell'esperienza, presci la decisione di non parlarne mai più a una riunione della Chiesa. Mantenni quell'impegno per un po' di tempo. Poi una domenica, sorella Lydia Stillman, una dirigente della primaria, si accucciò accanto a me e mi chiese di fare un breve discorso la settimana successiva. Le rispose, non faccio discorsi, ma lei replicò, lo so, ma questo puoi farlo perché io ti aiuterò. Cercai di resistere, ma mostrava così tanta fiducia in me che fu difficile rifiutare la sua richiesta. Fesci quel discorso. Quella buona donna era un messaggero di Dio che aveva un lavoro da farmi fare. Mi insegnò che quando arriva una chiamata, l'accettiamo. Non ha importanza quanto ci sentiamo inadatti. Come aveva fatto Moroni con Joseph, si accertò che fossi preparato quando arrivò il momento di fare il discorso. Quella insegnante ispirata contribuì a salvare la mia vita. Quando ero un adolescente, l'insegnante della nostra classe della scuola domenicare era un missionario da poco ritornato, di nome Peterson. Ogni domenica tracciava una grande freccia dall'angolo inferiore sinistro della lavagna fino all'angolo superiore destro. In cima alla lavagna scriveva, puntate in alto. qualsiasi dottrina insegnasse ci chiedeva di ingegnarci per arrivare un po' più in alto di quanto pensavamo fosse possibile. La freccia e quelle parole puntate in alto era un invito costante per tutta la lezione. Fratello Peterson fece nascere in me il desiderio di servire una buona missione, di fare meglio a scuola, di fissare obiettivi più alti per la mia carriera. Fratello Peterson aveva un lavoro da farci fare. Il suo obiettivo era di utarci a pensare, sentire e poi fare qualcosa in merito alle verità e ai principi del Vangelo. I suoi insegnamenti contribuirono a salvare la mia vita. All'età di 19 anni fui chiamato a servire una missione a Teiti, dove dovevo imparare due lingue straniere, francese e tahitiano. All'inizio della missione ero molto scoraggiato dalla mancanza di progressi nelle due lingue. Ogni volta che cercavo di parlare francese, le persone rispondevano in tahitiano. Quando cercavo di parlare tahitiano, mi rispondevano in francese. Ero sul punto di rinunciare. Poi un giorno mi trovavo alla casa della missione e stavo camminando vicino alla lavanderia, quando odii una voce che mi chiamava. Mi voltai e vidi una donna tahitiana con i capelli gridi in piedi vicino all'ingresso, che mi faceva segno di tornare indietro. Si chiamava Tupetea Mo. Parlava solo tahitiano e io parlavo solo inglese. Persi molto di quanto stava cercando di dirmi, ma capii che voleva che tutti i giorni andassi nella lavanderia così poteva aiutarmi a imparare il tahitiano. Facevo un salto da lei ogni giorno per fare pratica mentre stirava. All'inizio pensavo che i nostri incontri non sarebbero stati di grande aiuto, ma piano piano iniziai a capirla. Ogni volta che ci vedevamo, mi trasmetteva la sua completa fiducia che avrei potuto imparare entrambe le lingue. Sorella Mo mi aiutò a imparare il tahitiano, ma contribuì a farmi imparare molto di più. Ciò che realmente faceva era insegnarmi il primo principio del Vangelo, la fede nel Signore Gesù Cristo. Mi insegnò che se confidavo in Lui, il Signore mi avrebbe aiutato a fare qualcosa che pensavo fosse impossibile. Non solo contribuì a salvare la mia missione, contribuì a salvare la mia vita. Sorella Steele, fratello Peterson e sorella Mo insegnarono per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura che allargeranno grandemente l'anima. Insegnarono con i pensieri adorni della virtù e grazie a ciò lo Spirito Santo era il loro compagno costante. Questi grandi insegnanti sono stati l'ispirazione per pormi delle domande sul mio insegnamento. Come insegnante, mi considero messaggero di Dio? Mi preparo e poi insegno un modo da contribuire a salvare la vita delle persone? Mi concentro su una dottrina chiave della restaurazione? I miei studenti possono sentire l'amore che ho per loro, per il mio Padre Celeste e per il Salvatore? Quando giunge l'ispirazione, chiudo il manuale e apro i loro occhi, le loro orecchie e il loro cuore alla gloria di Dio? L'incoraggio a compiere il lavoro che Dio ha in mente per loro? Dimostro così tanta fiducia in loro che trovano difficile rifiutare il mio invito? Li aiuto a riconoscere le benedizioni promesse che derivano dal vivere la dottrina che sto insegnando? Nel regno di Dio, apprendimento e insegnamento non sono attività facoltative. Sono i mezzi tramite i quali il Vangelo è stato restaurato sulla terra e per mezzo dei quali raggiungeremo la vita eterna. Ci forniscono il sentiero che porta alla testimonianza personale. Nessuno può essere salvato nell'ignoranza. So che Dio vive. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo. Testimonio che il profeta Joseph Smith ha aperto questa dispensazione imparando la verità e poi insegnandola. Il profeta pose una domanda dopo l'altra. Ricevette risposte divine e quindi insegnò ai figli di Dio quello che aveva appreso. So che il presidente Monson è il portavoce del Signore sulla terra oggi e che continua ad apprendere e ad insegnare a noi come fece Joseph Smith perché l'insegnamento contribuisce a salvare le vite. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel 1833 il profeta Joseph Smith ricevette una rivelazione che conteneva un severo rimprovero rivolto a diversi fratelli dirigenti della Chiesa affinché mettessero in ordine le proprie famiglie. Il tema del mio messaggio è tratto da una specifica frase di questa rivelazione più diligenti e partecipi in casa. Desiero suggerirvi tre modi in cui ciascuno di noi può diventare più diligente e partecipi in casa. Vi invito ad ascoltare con orecchi che odono e cuori aperti e prego che lo Spirito del Signore sia con tutti noi. Suggerimento numero uno. Esprimete amore e dimostratelo. Possiamo cominciare a diventare più diligenti e partecipi in casa dicendo ai nostri cari che li amiamo. Non è necessario che usiamo un linguaggio infiorato o prolisso. Dovremmo semplicemente esprimere amore, spesso e con sincerità. Fratelli e sorelle, quando è stata l'ultima volta in cui avete preso tra le braccia al vostro compagno eterno e gli avete detto, ti voglio bene? Genitori, quando è stata l'ultima volta in cui avete espresso sinceramente ai vostri figli il vostro amore? Figli, quando è stata l'ultima volta in cui avete detto ai vostri genitori che li amate? Ora tutti noi sappiamo di dover dire ai nostri cari che li amiamo, ma ciò che sappiamo non sempre si riflette in ciò che facciamo. Possiamo sentirci insicuri, goffi o perfino un po' imbarazzati. Come discepoli del Salvatore non ci sforziamo soltanto di conoscere di più. Dobbiamo piuttosto, con coerenza, fare di più ciò che sappiamo essere giusto e diventare migliori. Dovremmo ricordare che dire ti voglio bene è solo l'inizio. Dobbiamo dirlo, dobbiamo farlo con convinzione e soprattutto dobbiamo dimostrarlo con coerenza. Dobbiamo sia esprimere che dimostrare il nostro amore. Il presidente Monson ha dato di recente il seguente consiglio. Spesso diamo per scontato che le persone che ci circondano debbano sapere quanto li amiamo, ma non dobbiamo mai presumere, dobbiamo far loro sapere. Non rimpiangeremo mai le parole gentili, pronunciate e l'affetto dimostrato. Piuttosto rimpiangeremo di aver omesso tali cose dai nostri rapporti con coloro che contano di più. Talvolta, durante un discorso o una testimonianza alla riunione sacramentale, sentiamo dire «So di non dire abbastanza spesso a mia moglie quanto le voglio bene. Oggi voglio che lei, i miei figli e tutti voi sappiate che l'amo». Una simile espressione di affetto può anche essere appropriata. Tuttavia, frasi del genere mi mettono sulle spine e silenziosamente esclamo che questa moglie e questi figli non dovrebbero sentire un messaggio così personale, a quanto pare così raro, in Chiesa davanti a tutti. Mi auguro che i figli vedano i genitori scambiarsi espressioni e dimostrazioni di affetto nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, se questa pubblica dichiarazione di affetto in Chiesa dovesse cogliere la moglie o i figli un po' di sorpresa, allora occorre veramente essere più diligenti e partecipi in casa. Il rapporto tra amore e azione adeguata è ripetutamente dimostrato nelle scritture e viene messo in luce nell'insegnamento del Salvatore e i Suoi apostoli. Se voi mi amate, osservete i miei comandamenti. Proprio come dimostriamo al Signore di amarlo camminando sempre nelle sue vie, l'amore per il coniuge, per i genitori e per i figli, si rivela maggiormente nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Godere dell'affetto sicuro e costante di un coniuge, di un genitore o di un figlio è una benedizione preziosa. Questo amore alimenta e sostiene la fede in Dio. Questo amore è una fonte di forza e scaccia la paura. Questo amore è il desiderio di ogni anima umana. Possiamo diventare più diligenti e partecipi in casa se esprimiamo il nostro affetto e lo dimostriamo con coerenza. Suggerimento numero due. Rendete testimonianza e vivetela. Possiamo diventare più diligenti e partecipi in casa se rendiamo testimonianza ai nostri cari delle cose che sappiamo essere vere tramite il potere dello Spirito Santo. Una testimonianza non deve essere lunga o magniloquente e non dobbiamo aspettare la prima domenica del mese per attestare le cose che sono vere. Noi possiamo e dovremmo rendere una pura testimonianza della divinità e della realtà del padre e del figlio nelle mura della nostra casa, del grande piano di felicità e della restaurazione. Fratelli e sorelle, quando è stata l'ultima volta in cui avete reso la vostra testimonianza al vostro compagno eterno? Genitori, quando è stata l'ultima volta in cui avete attestato ai vostri figli le cose che sapete essere vere? E voi, figli, quando è stata l'ultima volta in cui avete condiviso la vostra testimonianza con i genitori e la famiglia? Tutti noi sappiamo già di dover rendere la nostra testimonianza a coloro che amiamo di più, ma ciò che sappiamo non sempre si riflette in ciò che facciamo. Possiamo sentirci insicuri, goffi o perfino forse un po' imbarazzati. Come discepoli del Salvatore non cerchiamo soltanto di conoscere di più, dobbiamo piuttosto, con coerenza, fare di più ciò che sappiamo essere giusto e diventare migliori. Dovremmo ricordare che rendere una sentita testimonianza è solo l'inizio. Dobbiamo rendere testimonianza, dobbiamo farlo con convinzione e soprattutto dobbiamo viverla con coerenza. Dobbiamo sia esprimere che vivere le nostre testimonianze. Il rapporto tra testimonianza e azione adeguata è messo in luce nelle istruzioni del Salvatore rivolte ai Santi di Kirtland. Ciò che lo Spirito vi attesta, vorrei che lo faceste in tutta santità di cuore. La nostra testimonianza della verità del Vangelo dovrebbe riflettersi sia nelle nostre parole che nelle nostre azioni. Ed è nelle nostre case che le testimonianze vengono proclamate e vissute con maggior potere. Mariti e mogli, genitori e figli dovrebbero sforzarsi per superare ogni esidazione, riluttanza o imbarazzo nel rendere testimonianza. Dovremmo cercare e anche creare occasioni per rendere testimonianza delle verità del Vangelo e viverle. Una testimonianza è ciò che sappiamo nella mente e nel cuore essere vero mediante lo Spirito Santo. Se professiamo la verità, anziché ammonire, esortare o limitarci a raccontare qualche esperienza interessante, inviteremo lo Spirito Santo a confermare la verità delle nostre parole. Il potere della pura testimonianza non proviene dal linguaggio sofisticato o dall'eloquenza, è piuttosto il risultato della rivelazione trasmessaci dal terzo componente della divinità, lo Spirito Santo. Godere della testimonianza possente, edificante e costante di un coniuge, di un genitore o di un figlio, è una benedizione preziosa. Questa testimonianza rafforza la fede e offre una guida. Questa testimonianza genera luce in un mondo che diventa sempre più scuro. Questa testimonianza è la fonte di una prospettiva eterna e di una pace duratura. Possiamo diventare più diligenti e partecipi in casa se rendiamo testimonianza e la viviamo con coerenza. Suggerimento numero tre. Siate coerenti. Mentre i nostri figli crescevano come famiglia, abbiamo fatto quello che voi avete fatto e che state facendo. Tenevamo regolarmente le preghiere familiari, lo studio delle scritture e la serata familiare. Ora sono sicuro che quello che sto per descrivere non è mai successo in casa vostra, ma in casa nostra di sicuro sì. A volte, sorella Bednar e io ci siamo chiesti se valesse la pena sforzarsi di fare queste cose spiritualmente essenziali. Ogni tanto, versetti delle scritture venivano letti trasclamazioni del tipo «Mi sta toccando!» «Digli di smettere di guardarmi!» «Mamma, sta respirando la mia aria!» «Deveva essere successo nelle vostre case se state ridendo!» Preghiere sincere a volte venivano interrotte da risatine e spinte. E con dei ragazzi vivaci e rumorosi, le lezioni delle serate familiari non sempre raggiungevano un elevato livello di edificazione. Qualche volta, sorella Bednar e io eravamo esasperati perché le abitudini erette che cercavamo così faticosamente di coltivare non sembravano produrre quei risultati spirituali che desideravamo e che ci aspettavamo. Se chiedessi oggi ai nostri figli, già adulti, che cosa ricordano delle preghiere familiari, dello studio delle scritture e delle serate familiari, credo di sapere cosa risponderebbero. Probabilmente non ricorderebbero una preghiera in particolare o un momento specifico del nostro studio delle scritture, né una lezione particolarmente significativa della serata familiare, come il punto di svolta della loro crescita spirituale. Quello che direbbero di ricordare è che la nostra famiglia era coerente. Sorella Bednar e io pensavamo che l'esito finale fosse quello di aiutare i ragazzi a comprendere il contenuto di una lezione o di un passo scritturale specifico, ma non si ottiene questo risultato ogni volta che studiamo o preghiamo o impariamo insieme. La coerenza del nostro intento e del nostro operato è stata forse la lezione più grande, una lezione che allora non apprezzammo pienamente. Nel mio ufficio c'è un bel quadro che raffigura un campo di grano. Il dipinto è una copiosa raccolta di singole pennellate, nessuna delle quali, di per sé, è particolarmente interessante o espressiva. In effetti, se state vicino alla tela, tutto ciò che vedete è una massa di righe color giallo, oro e marrone apparentemente slegate tra loro e poco attraenti. Tuttavia, man mano che vi allontanate dal quadro, tutte le singole pennellate si combinano tra loro per comporre la magnifica veduta di un campo di grano. Numerose, semplici, singole pennellate unite insieme creano un dipinto affascinante e bellissimo. Ogni preghiera familiare, ogni volta che studiamo le scritture come famiglia, ogni serata familiare, è una pennellata sulle tele delle nostre anime. Nessun singolo episodio sembra avere un grande effetto o essere memorabile, ma proprio come le pennellate di giallo, oro e marrone si aggiungono l'una all'altra e producono un capolavoro di grande effetto, così la nostra costanza nel fare le cose apparentemente piccole può portare a risultati spirituali importanti. Pertanto, non stancatevi di fare il bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera, e ciò che è grande procede da piccole cose. La coerenza è un principio imprescindibile quando vogliamo porre le fondamenta di una grande opera, della nostra vita, e diventare più diligenti e partecipi in casa. Vi è un'altra ragione per cui è importante essere coerenti nelle nostre case. Molti dei più severi rimproveri del Salvatore furono rivolti agli ipocriti. Gesù mi si inguarda i suoi discepoli da scribi e farisei. Non fate secondo le loro opere, poiché dicono e non fanno. Questo forte ammonimento è un serio invito a esprimere amore e a dimostrarlo, a rendere testimonianza e viverla, e a essere coerenti. L'ipocrisia si nota assai facilmente nelle vite ed è a causa della maggiore rovina nelle famiglie. Spesso sono i bambini i più attenti e sensibili quando si tratta di riconoscere l'ipocrisia. Le dichiarazioni pubbliche di affetto, quando mancano i gesti di amore nel privato, sono ipocrisia e indeboliscono le fondamenta di una grande opera. Le testimonianze rese in pubblico quando mancano la fedeltà e l'obbedienza nel privato sono ipocrisia e minano le fondamenta di una grande opera. Il comandamento non attestare il falso si applica perfettamente all'ipocrita che c'è in ognuno di noi. Dobbiamo essere e diventare più coerenti. Sì, d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Se cercheremo l'aiuto del Signore, potremo, nella Sua forza, ridurre gradualmente la disparità tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, tra esprimere amore e dimostrarlo con coerenza, tra rendere testimonianza e viverla con risolutezza. Possiamo diventare più diligenti e partecipi in casa se saremo più fedeli nell'apprendere, nel vivere e nell'amare il Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Il matrimonio tra l'uomo e la donna è ordinato da Dio e la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli. Per queste e per altre ragioni di importanza eterna dovremmo essere più diligenti e partecipi in casa. Possa ogni marito, moglie, figlio e genitore essere benedetto per trasmettere e ricevere amore, per rendere ed essere testimoniato da una forte testimonianza e per diventare più coerente nelle cose apparentemente piccole, ma di grande importanza. Nel perseguire questi grandi obiettivi non saremo mai lasciati soli. Il nostro Padre Celeste e il Suo Figlio di letto vivono. Essi ci amano e conoscono le circostanze in cui ci troviamo e ci aiuteranno a diventare più diligenti e partecipi in casa. Di queste verità rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti